SONO STATO A POCHER Sono stato a poche... ...duemila anni. Non mi danno neanche un altro mezzo. Non ne posso più di stare all'università! Che stranzi... Grazie, buona visione. Ma dici a me? Dai, che ci sono Lara, ma sono inizio, aspetta. Beh, se vuoi puoi venire a stare da me. Sei proprio uno stronzo! Se volete vi do una mano. Dammi i soldi. ... ...